Adam Petè, sta sempre con me, onde giovans, così slaccia, e ride, e dice, sai? E ride sempre da un punto diverso, non è che arriva allo stesso posto. Fatti un po' più in là, sono io la star, quando passo tutti, si spostano e mi lasciam passare. Cambio spesso abito, per andare a spasso, quando passo tutti, si voltano col nasino all'insù. Ma guardo un poco questi, sono tutti plebe, sono io la star, lasciatemi passare. Lasciamolo passare, aspetta, non è passata, non è passata ancora, aspettate, aspettate. Non so che rapporto avete voi con Madame Petè, la incontrate ogni tanto? Io l'ho scritto pure, qui al Barrito, questa oasi, dico, è pure bello, no? Con questo via vai, poi, insomma, eppure dà un senso di libertà. Si può incontrare anche in gruppo d'estate, no? Perché si esce in campagna, pure è bello, insomma. Secondo me molti di voi la incontreranno dopo, eh? Andando verso l'auto, spero nell'andare però, non proprio inciano all'auto. Attenzione, la facciamo ripassare, eh? Madame Petè, sta sempre con me, ondè, già avanza, poi si slà, ci ride, dice sai? Ebbè! Fatti un po' più in là, sono io la star, quando passo tutti, si spostano e mi lasciam passare. Cambio spesso abito, per andare a spasso, quando passo tutti, si voltano col nasino all'izzo. Ma guarda un po' più in là, sono tutti plebe, sono io la star, lasciatemi passare. Dona Lucia, a sorpresa, a sorpresa, a sorpresa. Questa sera è a sorpresa, eh? Ha interpretato Madame Petè, Madame Petè, con tutte le aree che si dà, voi non sapete quanti ventagli si ha cattati da quando canta questa canzone? C'ha una collezione, eh, veramente. Ovunque andiamo in giro, il noventaglio non manca, no? E come sempre io ripeto la mia sincerità, Lucia, è vero? Perché ormai qualcuno muo di chiama pure Madame Petè, no? L'abbiamo personificata. Però io ti dissi, no, quando l'ho scritta, dissi, Lucia, ho scritto una canzone intima e profonda. Sono stato sincero, eh? Però lei non mi ha chiesto niente altro. Ha detto, va bene, senti, ma è profonda. Lei pure non nega subito, eh? Dopo qualche giro, no? Hai iniziato pure tu a interagire, insomma. Però adesso io dico, facimola passare a sto punto. Facimola passare? Facimola passare. Madame Petè! Dona Lucia!